Cari spettatori di Lady Gossip, oggi vi portiamo gli scoop più bollenti direttamente dalla casa del grande fratello. La nostra adorata Beatrice Luzzi ha messo in scena un'altra puntata piena di tensioni e colpi di scena. Nel corso della puntata del 28 settembre, abbiamo assistito a un crescendo di tensioni nella casa. Beatrice Luzzi ha consolidato il suo ruolo di favorita del pubblico, nonostante non goda della simpatia di molti inquilini. Ma cosa è successo questa volta? Prima di scoprirlo iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Il clou della serata è stato il deterioramento del rapporto tra Beatrice e Giselda. La tensione è esplosa quando Beatrice, come vincitrice della sfida, ha avuto il potere di mettere un concorrente in nomination. La sua scelta è caduta su Giselda, con cui ha avuto degli screzi nei giorni precedenti. Ma la cosa più interessante è stata la motivazione di Beatrice per questa nomina. Ha accusato Giselda di essere ipocrita e ha sottolineato di averle dato molte attenzioni, addirittura regalandole dei vestiti. Giselda, visibilmente irritata, ha ribattuto che quei vestiti non erano regali, ma prestati da Beatrice. La discussione si è fatta sempre più accesa, e il pubblico in studio è rimasto senza parole. Beatrice ha risposto, se avessi visto che lei li usava, glielo avrei lasciato, ma non è andata così. Era distaccata. Giselda ha replicato sostenendo che Beatrice le aveva detto di tenerli nell'armadio per utilizzi futuri. Insomma, una lite sui vestiti si è trasformata in una vera e propria sfida di parole. Il conduttore Signorini è intervenuto, sottolineando che un regalo non si richiede indietro, ma la polemica tra le due donne sembra essere ben lontana dall'essere risolta. Cosa succederà in seguito? Come si evolveranno le dinamiche nella casa del grande fratello? Restate sintonizzati su Lady Gossip per scoprire tutti i dettagli di questo avvincente reality show.